Perché la Lega Nord è contraria a questo provvedimento del governo? Siamo contrarie perché utilizzano una sentenza della Corte Costituzionale come cavallo di Troia per scarcerare degli spacciatori e per far passare l'idea che esistono droghe pesanti, droghe leggeri, ma le droghe fanno male soprattutto ai giovani, soprattutto quando il cervello è in fase di formazione fino a 21 anni, hanno degli effetti devastanti e uno Stato serio non può permettersi di far passare questo messaggio.